Sì, la nostra è una lobby game. Volete sapere cosa facciamo? Questo. Abbiamo un preciso rituale di iniziazione e facciamo il possibile per non dare nell'occhio. Ognuno ha il suo ruolo. C'è chi sbriga gli affari più delicati e chi gestisce le relazioni con l'esterno. Il tesoriere si occupa del denaro mentre il presidente onorario è al comando e ovviamente sono io. Siamo temuti per la nostra rete di contatti e la quantità di adetti e non smettiamo mai di espandere la nostra influenza. Una volta all'anno poi ci riuniamo in un luogo segreto e celebriamo la nostra potenza lontano da occhi indiscreti. E adesso festeggiamo! La lobby più colorata d'Italia ti aspetta al Pride. Tornare in un luogo segreto Grazie.